Tutto l'onere e le spese per fare in modo che questi processi si svolgano. Noi crediamo che questo, così come fino adesso è stato svolto un ottimo lavoro insieme appunto tra il Ministero della Giustizia e le istituzioni regionali, si possa continuare in questo modo perché questo 1.200.000 euro torni all'assessorato alla cultura e con quei soldi si possano formare i cittadini emiliano-romagnoli alla conoscenza del fenomeno mafioso, alla cultura e al modo migliore per combattere la mafia e l'omertà e tutto quello che questo porta. Per questo mi reputo parzialmente soddisfatta ma ringrazio molto il Ministero per la collaborazione e sono convinta che potremo continuare su questo piano. Grazie. Grazie, onorevole Pini. La deputata Marilena Fabri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Anch'io come la collega Giuditta Pini mi ritengo parzialmente soddisfatta di questa risposta in quanto se è vero che spetta appunto al Presidente di Corte d'Appello verificare l'idoneità delle sedi di Tribunale per lo svolgimento dei processi, è anche vero che a mio avviso dovrebbe l'interlocutore del Presidente della Corte d'Appello, non sarebbe dovuto essere il Presidente della Regione Emilia-Romagna per eventualmente risolvere la problematicità delle aule o degli immobili, ma sarebbe dovuto essere il Ministero della Giustizia stesso e soprattutto alla luce dell'articolo 38 della legge di stabilità del 2015 che finalmente porta a carico dello Stato le spese per l'allestimento delle sedi giudiziarie e delle relativo oneri di gestione. Questa era un'anomalia che risale al 1941, quindi quella COM ha modificato la legge diciamo del 1941 che accollava ai comuni gli oneri delle spese giudiziarie ma in una fase in cui i bilanci comunali erano al 100% oggetto di trasferimento da parte dello Stato. È evidente che appunto nel momento in cui le autonomie locali hanno anche autonomia finanziaria la giustizia debba essere un onere della collettività nel suo complesso e quindi a maggior ragione a seguito di questa modifica che c'è stata nel 2015 che ha portato a partire dal 1 settembre del 2015 gli oneri per le sedi giudiziarie a carico del Ministero della Giustizia e dello Stato a maggior ragione a mio avviso in questo caso doveva essere il Ministro della Giustizia parte di questa interlocuzione non solo per la verifica della corretto allestimento dei locali e sicuramente anche per il necessario supporto per tutta la logistica da quello che abbiamo capito dalla risposta, per l'allestimento delle videoconferenze, della videosorveglianza ma insomma anche eventualmente una compartecipazione se non totale almeno parziale delle spese che come veniva ricordato sono state sostenute già in parte della Regione Emilia-Romagna per 748 mila euro per l'affitto dei locali del padiglione della Fiera di Bologna e i 450 mila euro di contributo al Comune di Reggio Emilia che dovrà adeguare i locali dell'attuale Tribunale di Reggio Emilia. Quindi appunto ribadisco la parziale soddisfazione perché riteniamo che comunque ci sia un'inadempienza dalla parte del Ministero della Giustizia che speriamo possa essere poi colmata successivamente perché riteniamo comunque importante che il processo si mantenga in Emilia-Romagna per una maggiore acquisizione di consapevolezza non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini della pericolosità dell'infiltrazione delle attività malavitose come quella che si è verificata e quindi anche per far emergere i necessari anticorpi che già hanno fatto emergere il fenomeno che è stato appunto evidenziato dalla Direzione Distrittuale Antimafia dei Carabinieri ma che è necessario che venga ulteriormente rafforzato nella consapevolezza dei cittadini. Quindi ospichiamo che ovviamente oltre alla lodevole collaborazione che si è verificata in questi mesi da parte dei diversi soggetti interessati ecco ci possa essere comunque un riconoscimento anche degli oneri almeno in compartecipazione da parte del Ministero di Giustizia. Grazie. Grazie. La deputata Giulia Sarti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego Onorevole. Grazie Presidente. Ma da questa vicenda, sottosegretario, emergono sostanzialmente due considerazioni. La prima è che i maxiprocessi di mafia non sono un affare solo del sud, delle regioni del sud ma ormai bisogna abituarsi al fatto che possono essere celebrati anche nelle regioni del nord e quindi i grandi processi contro l'andrangheta a Milano avrebbero dovuto insegnare qualcosa. Invece evidentemente siamo di fronte ad una carenza da parte di tante città del nord, da parte delle regioni del nord, di aule idonee alla celebrazione di questo.